Eren, devo arrivare là sopra, ma non ci sono scale e la parete è troppo alta. Come faccio, Mew? Beh, potresti metterti in creative come me e volare. Ma io sono solo un gatto, non posso volare come te, Mew. Non puoi volare, eh? Ci vorrebbe quasi un'ash... Aspetta, ho l'idea. Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video con un nuovo One Command Block. Oggi siamo qui con Gianfatto, che in realtà se n'è andato. Perché sei laggiù? Che fai? Si è offeso che non poteva salire. E vabbè, poi lo riporteremo qui. Comunque, il problema, come avete visto dalla breve intro, è che Gianfatto deve raggiungere la sommità di questo mondo amplificato, ma non ci sono le scale, ovviamente lui non può volare come noi perché non può andare in creative. Quindi quello che faremo, ragazzi, sarà creare per lui un ascensore con i One Command Block. Gli esperti di Redstone da sempre hanno provato a creare un ascensore in Minecraft, creando cose con i pistoni che funzionano magari, ma sono baggatissime, si possono rompere come niente. Questo fino a pochi giorni fa, perché il geniale Red Engineer ha creato un nuovo One Command Block che permette di creare gli ascensori in Minecraft. Veri e propri ascensori che vanno su e giù senza l'utilizzo di pistoni strani e che funzionano bene e fanno il loro dovere il tutto in Minecraft Vanilla senza mod. Nella versione 1.9, il che vuol dire che lo potrete utilizzare in futuro, oppure adesso, come faccio io, con gli snapshot. Sto utilizzando il 15v43C. Quindi, come ormai di consueto, andiamo da questa parte, ragazzi. Mi give subito un Command Block. Quindi, give, air and blaze, Command, Block. No, mi sono dato un comparatore. Voglio un Command Block. Voglio un Command Block. Command. Ok, ci siamo, ragazzi. Command Block ottenuto. Prendiamoci anche il consueto pulsantino. Mettiamo giù il Command Block. Bam. E incogliamo al suo interno il codice, il comando unico, che voi troverete nel link che vi lascio in descrizione. Fatto ciò, ok. Vedete che è gigantesco questo codice, come sempre. Mettiamo giù il pulsante, attiviamo e lasciamo che crei la macchina, che creerà poi l'ascensore. Come vedete, la macchina si è generata. Abbiamo gli ascensori di Red Engineer. Right click per informazioni. Quindi, se voi schiacciate, vi dà il crafting per fare, appunto, la vostra ascensore personale. Qui la puoi attivare, attivare la macchina, e qui la puoi deattivare. La macchina dovrebbe, comunque, essere già attiva in partenza. Fatto ciò, ragazzi, andiamo a creare l'ascensore vero e proprio. Nel mentre già fatto, però, si è offeso e si è buttato giù tra le nuvole, probabilmente non importa. Noi, comunque, faremo il nostro dovere. Prendiamo otto pezzi di redstone, li droppiamo, prendiamo sedici pistoni normali, li droppiamo, e una volta combinati in questo modo, si ottiene il meccanismo che farà funzionare l'elevatore, o, per meglio dire, l'ascensore. Ma non è finito qui, perché è un ascensore che si rispetti, non si muove a caso nell'etere, ma ha bisogno di dei binari, di una struttura di supporto, e quindi prenderemo questi blocchi. Prendiamo un blocco di ferro, delle sbarre di ferro, due bottoni, e delle lastre di pietra liscia. Mi raccomando, vanno bene solo quelle di pietra liscia. Ora, dobbiamo arrivare da qui fino lassù, e quindi, partendo da questi quattro punti che mi sono segnato, metteremo questi pilastrini di ferro, e pian piano li andiamo a stendere fino ad arrivare in alto. E quindi siamo arrivati con questa struttura fino in alto. Quindi siamo arrivati qui, chiudiamo tutta la struttura con questi slab di pietra che ci siamo preparati, ne mettiamo uno strato sopra alle sbarre di ferro, e poi copriamo con un altro strato, in modo da creare un tettuccio per questo ascensore. Detto ciò, prendiamo uno dei due bottoni, e lo mettiamo qui, nel blocco centrale. Poi ci lasciamo cadere, andiamo alla base di questa struttura che sorreggerà l'ascensore, mettiamo l'unico blocco di ferro qui, e un altro bottone alla base. Fatto ciò, non ci resta che spawnare l'ascensore vera e propria. Vi faccio notare che se voi spawnate l'ascensore in giro a caso, vi comparirà questo simbolo della barriera invisibile, quindi la negazione, e la scritta piazza su un blocco di ferro, e quindi non ve lo farà piazzare da nessuna parte, a meno che voi non andate in questo punto, dove avete costruito la vostra struttura, e ci mettete il blocco di ferro. Avete visto per un attimo uno scheletro, che è l'entità che permette diciamo al tutto di funzionare, e poi si è generata questa struttura con questi slab di quarzo, che costituiranno infatti l'ascensore. Ragazzi, per il resto è molto semplice, andate qui dentro, ci mettiamo in F5 per vedere meglio, Shift, e l'ascensore inizia a muoversi. Guardate quanto è bella, c'è anche il fumo sotto, perché, diciamo, questo meccanismo ci sta spingendo verso l'alto, è abbastanza lenta, non è velocissima, però, Dio mio ragazzi, un ascensore funzionante finalmente in Minecraft, farà sicuramente molto comodo già fatto per arrivare lì in alto. Comunque, siamo quasi per arrivare sulla sommità di questa enorme montagna del mondo amplificato, con questo panorama magnifico, e ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati in cima con la nostra ascensore. L'ho fatta anche di un blocco troppo alto, volendo, perché si doveva fermare esattamente di questo livello, però, non ci importa. Una volta che l'ascensore è arrivata in alto, vi direte come faccio a scendere, semplicemente tornate sopra l'ascensore, shiftate, e l'ascensore inizia a scendere. Adesso ho fatto un po' mezzo macello, perché non era esattamente allineata con il piano. Comunque, come potete vedere, nella discesa il fumo esce dall'alto, perché spinge il meccanismo verso il basso, e l'animazione è un po' scattante, non è proprio liscia come la salita, per ovvie ragioni, perché qui discendi e il personaggio pian piano deve cadere, invece qui mentre sali è la piattaforma che ti spinge verso l'alto, e quindi tutto funziona molto meglio. Se avete notato il meccanismo sfrutta anche l'effetto di levitazione. Comunque, se voi avete perso l'ascensore vi direte come faccio a farla tornare giù? Semplicemente abbiamo i bottoni che abbiamo visto prima, lo schiacciate e l'ascensore come vedete cambia direzione e inizia a scendere quindi inizia a tornare da voi. Stessa cosa se volete farlo salire e voi siete rimasti intrappolati in alto, vi basterà schiacciare questo pulsante, tac, e l'ascensore riprenderà a salire anche se a metà della corsa ricomincerà a salire. Un'altra cosa interessante è che se voi spaccate una di queste linee o se la fate incompleta tipo fate così l'ascensore anzi facciamolo più in basso se no non ci arriva più l'ascensore si bloccherà e non salirà oltre quella linea però mettiamo caso che l'avete fatto per errore tranquilli non avete rotto niente basterà rimettere la sbarra e riprenderà a salire qui c'è un'altra rottura si ferma ancora però noi rimettiamo la sbarra e riprenderà a salire tranquillamente. Ora direi di farla scendere perché dovremo far salire già un fatto quindi la lasciamo andare nel piano di sotto vi voglio anche far vedere ragazzi che potete mettere quante ascensori volete nel mondo con un solo macchinario e quindi semplicemente con queste uova di spawn che vi vengono date quindi non vi dovete limitare a una sola macchina ma ne potete mettere quante ne volete voi quindi io per esempio metto qui un altro blocco di ferro in questo modo ovviamente qui i blocchi che stanno diciamo in mezzo al percorso dell'ascensore vanno tolti perché se no ovviamente interferirebbero con l'andamento del macchinario quindi come possiamo vedere ho riprodotto un altro ascensore questa volta un po' più piccola e come potete vedere senza schiacciare il bottone perché non serve si può creare una seconda ascensore che funzionerà allo stesso modo e senza problemi ecco come vedete abbiamo un ascensore qui e un ascensore laggiù in realtà in questo caso l'ascensore non sta salendo si è tipo bloccata forse c'erano queste ah no guardate mancava una sbarra qui perfetto vedete era quello il problema però lo puoi correggere anche dopo aver fatto il lavoro e l'ascensore riprende a funzionare tranquillamente fai così e torna giù ovviamente questo meccanismo funziona anche per trasportare in alto gli animali per cui adesso cerchiamo già un fatto e diamogli la lieta novella e facciamolo salire di sopra oh eccoti qui già un fatto tranquillo la macchina funziona puoi salire come ti avevo detto ma siamo sicuri che sia affidabile si si tranquillo non c'è nessun problema guarda ti metti qui shift e ciao già un fatto ci vediamo di sopra oh la vedi che ce l'abbiamo fatta ben arrivato sulla sommità del mondo già un fatto bravo scendi seguimi come puoi vedere in realtà qui non c'è un cazzo di niente però spero tu sia contento quindi ragazzi il problema lo abbiamo risolto questa era la one command block dell'ascensore veramente molto bella e vi consiglio di provarla ovviamente come in tutti i casi la macchina può essere disattivata schiacciando il cartello deactivate quindi right click tasto destro fate così e la macchina viene disattivata quindi in questo momento non funziona più poi per reattivarla fate così ed è tutto normale quindi dipende dal colore del vetro se è viola è accesa se è nera è spenta detto ciò ragazzi per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto che lo possiate utilizzare nei vostri mondi nei server secondo me è una cosa molto comoda e molto bella e ben funzionante anche vi ricordo che però è per la 1.9 quindi abbiate pazienza per la versione definitiva se no giocateci con gli snapshot detto ciò ci vediamo presto con un'altra one command block perché ho visto che vi sono piaciute le prime due quindi ho intenzione di continuarle con un ritmo non esagerato quindi al massimo una settimana la si può fare detto ciò ragazzi un saluto da Eren Blaze ciao a tutti ciao a tutti